Ciao a tutti i Lopardi, siamo al Palagialli insieme a Luca Mosca. Luca questa sera gara 1, per te una buona prova, purtroppo non è arrivata una vittoria ma mercoledì saremo a Tortona, allora chiedo anche a te un commento sulla gara di questa sera. Sì, purtroppo non è andata la vittoria, ci abbiamo creduto fino alla fine, sono stati bravi a segnare anche i tiri molto difficili, sono tanto talentuosi, ma naturalmente è solo gara 1, ci aspetta mercoledì a Tortona in cui sicuramente non andremo là già sconfitti e ce la giocheremo fino in fondo. Ringrazio tantissimo il pubblico che anche oggi non è stato tantissimo e ci ha supportato anche fino alla fine quando eravamo in situazioni difficili. Ci vediamo mercoledì. Allora ancora grazie Luca e come sempre Lopardi, prize! Grazie a tutti!